Di Serie B, Benone, Bologna e Modena, vittorie che contano contro avversari che puntano in alto. Modena ad Arezzo, clamorosa tripletta di Claudio Bellucci, finisce 3-1 per il rosso-blu di Ulivieri, momentaneamente raggiunti da Martinetti prima dell'intervallo. Bologna umile e vincente, con il mister di San Miniato Basso in panca, un'altra squadra, 7 punti in 3 partite con pretendenti alla promozione. Sabato al Dallara, un gustoso Bologna-Cesena.